A dire la verità ci aspettano 5 partite intense, la prima penso sia la più dura di tutte le 5 perché giochiamo contro una squadra che all'andata qui ha perso, conoscendo la mentalità che c'è a rubiera e avendoci giocato so che sicuramente vorranno vendicarsi sportivamente e noi dobbiamo essere pronti a questi perché andiamo a casa di una squadra che comunque va alla ricerca di punti di salvezza e noi invece dobbiamo dimostrare che non è stato un caso la partita di andata alla vittoria. Poi ci aspettano due partite in Puglia che per i ragazzi sarà un'occasione di crescita e vedere un po' se siamo migliorati rispetto all'andata perché comunque sono state due partite dove abbiamo subito tanto forse le partite dove abbiamo giocato peggio nel giorno di andata. In mezzo ci aspettano altre due squadre che sono Imola e Carpi che sono squadre alla nostra portata squadre che lottano la salvezza, squadre che hanno circa i nostri punti quindi saranno scontri belli anche per i ragazzi. Guardi ragazzi ancora non ci stanno pensando però io penso che adesso che sta uscendo un po' di sole che arriva la primavera poi sarà quello il segnale che farà capire a tutti che questa fantastica avventura sta per terminare ma saranno momenti fantastici che ci porteremo per sempre dentro, per ora sono concentrati anzi adesso spero che non sentano questa intervista se no va a finire che iniziano a commuoverci ma adesso scherzi a parte dobbiamo stare sul pezzo fino in fondo e poi quando arriverà il momento dei saluti ci apprezzeremo come una vera famiglia. Sì adesso ci aspettano due partite dopo questa pausa di nazionale ci siamo allenati bene ci siamo preparati bene per queste due partite e adesso sabato ci aspetta il rubiera contro cui l'andata abbiamo vinto di tanto più di dieci infatti ci aspetta una partita assolutamente difficile non da sottovalutare anche perché loro sicuramente vorranno prendere due punti e mercredì giochiamo contro il Romagna dove l'ultima volta ce la siamo giocata abbastanza bene a cinque minuti della fine eravamo più tre e quindi questa volta non siamo contenti col pareggio ma vogliamo finire assolutamente con due punti. Queste ultime cinque settimane del Campus Italia sono molto toste possiamo dire anche perché ogni uno si sente il peso ma anche se pensiamo che ce ne dobbiamo andare fra poco per lasciare i nostri amici, lasciare gli allenatori, lasciare il Campus è triste diciamo. Questi ultimi due mesi li dobbiamo credercele alla piena e dobbiamo fare il tutto per finire questo Campus al 100%. Questa stagione finora sta andando abbastanza bene soprattutto dal nostro punto di crescita ma forse potevamo fare qualche punticino in più anche perché abbiamo buttato certe partite diciamo e abbiamo fatto un'ottima prestazione. Grazie 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 Grazie